La voce di una ragazza del Medioevo che arriva a tutte le ragazze del mondo e di ogni tempo. Uno spirito a cui non era sfuggita l'aria nuova che in quegli anni si respirava in Assisi. Chiara di nome e di fatto. Fra Agnello Stoia racconta Santa Chiara d'Assisi. Vita, morte e miracoli. Storie di Santi. Sabato alle 17.30.